Parliamo di Carabinieri, parliamo di Associazione Nazionale Carabinieri, Gardone Valtrompia, siamo nella sede in via Monte Guglielmo a Inzino di Gardone Valtrompia. Presente ecco qui accanto a me il Presidente Giampietro Torri, il Segretario Lindo Serrani e tre consiglieri Fabio Ghisla, Fedullo Luigi, Pelizzari Faustino in rappresentanza diciamo ideale degli iscritti. Presidente quanti sono gli iscritti all'Associazione di Gardone? Allora gli iscritti alla data odierna sono 255 di cui 139 effettivi in congedo, 47 familiari, 66 simpatizzanti e tre soci effettivi in servizio. Io ho iniziato nel 78, il 18 marzo ho iniziato la scuola allievi Carabinieri di Iglesia, ho fatto nove mesi lì, poi sono stato trasfitto al quarto battaglione di Padova, un anno e qualche cosa lì, poi sono andato alla San Marco di Venezia e dopo lì diciamo nel 61 mi sono congedato per il matrimonio perché per i 28 anni si poteva sposarsi e mia povera moglie non mi aspettava se no quindi diciamo così allora ho scelto di abbandonare l'arma. L'idea, la possibilità e la data di un possibile rinnovo del Consiglio. Allora il Consiglio adesso aspettiamo il 31 marzo per vedere come va la pandemia, poi organizziamo le elezioni per il nuovo Consiglio, pensiamo di farle non so ai primi di maggio perché ripeto il Consiglio sezionale dura 5 anni e alle cariche sociali, alle elezioni possono partecipare solamente i soci effettivi, i soci familiari e simpatizzanti non possono votare, i consiglieri devono essere tutti i soci effettivi in congedo perché noi nella nostra sezione abbiamo anche tre soci effettivi tuttora in servizio però non possono avere cariche sociali mentre sono in servizio. E quindi vediamo, prima delle elezioni devo fare una comunicazione a tutti i soci che ci saranno le elezioni quel giorno e si spera che la maggior parte venga a votare perché negli anni passati su 140 soci effettivi 5 anni fa ne sono venuti 44 mi sembra, 5 anni prima erano 25, poi non torno più indietro perché io ero ancora in servizio però penso che speriamo speriamo che su 140 soci effettivi vengano perché ripeto non è che possiamo andare casa per casa a suonare e dire domenica a Tocci saranno le elezioni, quando facciamo la comunicazione se uno ci tiene viene, due minuti viene per votare, non è che ci sia tanta burocrazia. Grazie a tutti